istituto letterario carlo alberto pasolini da londra dedicato all'odiato padre di pierpaolo pasolini un gesto che il nostro che cancella il mammismo di questo paese o almeno ci prova sono aggiunti altri materiali chiamiamoli pure letterari allora alessio iali iali cicco vive al tufello ha mandato un suo testo ci racconta di insegnare storia e filosofia in un liceo romano dice non avere nessuna ambizione letteraria disegno e scrivo per ridere in solitudine invia un libricino che ha composto quando ha compiuto 40 anni eccola adesso sono 40 anni che faccio felici gli dèi 5 agosto 2019 l'altra notte ho sognato ermes il messaggio degli dèi che mi hanno detto queste parole alessio gli dèi ti ringraziano sono orgogliosi di te sono 40 anni che strappano risata e li fai felici per questo ti fanno gli auguri più affettuosi e sinceri e poi scrive mi manca mio zio rosario mi manca il giallo di campomarino è già questa il giallo di campomarino nessuno di noi saprà mai come affatto meno che non viva lì il giallo di campomarino ma in qualche modo alessio con questa sua raccolta ce lo restituisce alcuni versi sono diciamo pure hanno la semplicità del disincanto così come i suoi disegni l'angelo del tufello prende per il culo il dulce non li potete vedere ma insomma me li restituisco io africa al tufello africa l'europa sarà africa che gioia e ancora il primo appuntamento c'è un'essenzialità nel disegno che quasi picassiana diciamo il picasso che disegnava con i pastelli la pettegola viva scerbanenco un grande scrittore un ritratto di scerbanenco grande scrittore di gialli venere privata o traditori di tutti il punk tufello bene mario ma che ne sanno del rosso nel cuore ecco ti auguro il succo di arancia nel cuore complimenti ad alessio accanto ad alessio aggiunge un altro testo perdonate la mia giungla e la mia giungla giunge da perdonate avrei dovuto preparare prima da daniele de lorenzo ecco la parla piano per favore parla piano la mia testa sta glagiando in una strana colla rosa questo sembra un biglietto ultimativo non ti preoccupare io sto bene si sto bene se non chiudo gli occhi sto bene resto qui si ma tu vai è molto prosaico questo testo ecco io diciamo suggerirei un maggiore controllo della parola della parola del linguaggio controllo dal punto di vista della come posso dire come posso dire di evitare ogni forma diciamo retorica e per finire c'è un messaggio di michele rossetti ecco che mi ringrazia per per i suggerimenti bene credo possa bastare grazie mi raccomando invenzione non pensiate mai che esista un canone letterario come vi dicevo l'altro giorno ma a me verrebbe di scrivere ieri ho stato al mare ecco ci sarà più verità letteraria ieri ho stato al mare che in ogni altra forma diciamo mutuata da un'idea da un'idea ritenuta impropriamente letteraria istituto carlo alberto pasolini da londa fulvio abate i testi qualora voleste inviarli che siano brevi non più di 30 righe ancora meglio 25 l'indirizzo lo trovate sulla mail fulvio abate 1 scritto al numero che ho c'è la gmail.com non vi prometto nulla perché non posso permettere nulla neppure a me stesso ciao a tutti e a tutte